21 candidati, 9 donne, 12 uomini pronti a dare il loro impegno per Bassano, supportando il candidato sindaco della città, I Pieri del Grappa, Roberto Marin. Nessun capolista, ma una squadra compatta alla corsa per la guida di Bassano del Grappa. Sono tutti 21 persone che si sono messi a disposizione, con disponibilità, con coerenza, ma soprattutto con la voglia di dare una mano e aiutare la città di Bassano del Grappa che ha bisogno di scrivere il suo futuro. Abbiamo fatto una scelta ben precisa anche sulle disponibilità, quindi abbiamo cercato copribuchi o altro, avevo tre figli maggiorenni, potevo tranquillamente scriverli in lista. Abbiamo fatto una scelta proprio di coerenza e quindi solo chi ci ha dato la piena disponibilità a mettersi in gioco. Lei ha detto che questa è l'unica vera lista civica. Ma certo. Abbiamo visto negli anni, e vi andiamo in questa campagna elettorale, che nascono come i funghi liste civiche di scopo, per appoggio a un candidato sindaco. La lista civica impegno per Bassano da dieci anni lavora intensamente per il bene della città. Una lista civica fatta solo ed esclusivamente da bassanesi che si impegnano per la città e per il bene della città. E se si chiede perché votare la lista di impegno per Bassano, Roberto Marin non ha dubbi. La politica e soprattutto i partitismi non hanno certamente dato il meglio di sé per la città. La città non aveva bisogno di questo e lo dicono i bassanesi che sono sconcertati e soprattutto hanno perso anche la volontà di andare al voto. Non ha dato certo esempio costruttivo come abbiamo visto, insomma, certi comportamenti candidati contro candidati e naturalmente un centro-destra che è diviso e incoerente verso se stesso.